Roberta Giarusso Roberta Giarusso, ho avuto paura, mia figlia è un miracolo . Sono passati due mesi e mezzo dal parto e ora Roberta Giarusso racconta felice la sua avventura con la piccola Giulia, nata lo scorso 20 luglio. Ho fatto il cesareo d'urgenza. . Appena nata stava bene, nessuna conseguenza, solo una grande paura per me e per il papà. Giulia è il nostro miracolo racconta l'attrice al settimanale Diva e Donna. . È dolce e buonissima, mangia e dorme. È nato un angelo dice emozionata la Giarusso mentre stringe tra le braccia la sua bambina con accanto il compagno Riccardo di Pasquale. Avevo previsto di fare il parto naturale. . Durante il tracciato i medici hanno scoperto un abbassamento del battito del cuore della bambina, a ogni contrazione andava sempre più in sofferenza cardiaca, quindi mi hanno fatto il cesareo d'urgenza. È il racconto della Giarusso, che dopo il parto non si è ripresa subito. . La ripresa dal cesareo è stata lenta e io ero arrabbiata perché volevo subito prenderla in braccio, ma non riuscivo neppure ad alzarmi dal letto dal dolore. . Una volta a casa mamma e figlia si sono conosciute e amate, stare con mia figlia mi fa stare bene con me stessa. . Me la porto anche in palestra dice e del compagno va a fiera, sono sempre più convinta di avere al mio fianco l'uomo giusto. . .